Ma i santi non vanno al Senato, vanno in paradiso. Non ci sono santi fra i nostri senatori a vita con tutto il grande rispetto che si meritano e quindi non sono d'accordo su questo punto di vista. Vanno in Senato come senatori a vita grandi protagonisti della vita imprenditoriale, scientifica, accademica del nostro paese e grandi leader politici, sono d'accordo, grandi leader politici che hanno saputo raccogliere attorno a sé un consenso democratico. Che che se ne dica, che che ne dica Zanda?